La prossima Serie C ad oggi ha 58 squadre. Ieri infatti la scadenza per presentare la domanda di iscrizione e tutte o quasi sembrano avercela fatta, nonostante i problemi economici che attanagliano parecchie realtà sportive in terza serie. Ad oggi le uniche due società che non hanno provveduto ad iscriversi al prossimo campionato sono il Latina, il retrocesso dalla B ed è stromesso in seguito al fallimento ed il Como. I lariani dovrebbero ripartire dal torneo di Serie D. Le situazioni più complicate riguardavano almeno 5 sodalizi che più degli altri erano in pericolo. Ce l'hanno fatta invece a presentare la documentazione, le pericolanti Mantova, Messina, Maceratese, Acragas e Catanzaro. Per quanto riguarda la formazione marchigiana è stato un vero e proprio colpo di scena a scombussolare i piani della vigilia dell'iscrizione col passaggio della proprietà. La Maceratese infatti passa nelle mani di Claudio Crucianelli, ex direttore del settore giovanile, insieme all'imprenditore campano Claudio Gliotti. Proprio Gliotti che ha provveduto all'iscrizione. Il problema adesso sarà la partenza ad handicap, ovvero la penalizzazione che la Maceratese subirà di sicuro per un deficit ancora non ben identificato e che porterà Biancorossi ad iniziare con un meno 3 nella casella dei punti. Ancora più difficile e nebulosa la situazione in casa Mantova. Domanda presentata a Firenze come nei termini previsti ma il rischio crack rimane comunque altissimo. Come la somma che deve essere ripianata si parla di oltre 800 mila euro e che senza l'apporto di capitali potrebbe far sprofondare i virgiliani nel baratro. Anche perché adesso le scadenze saranno ravvicinate. Mercoledì bisognerà presentare in lega la fideiussione da 350 mila euro, pena un altro meno uno in classifica. Mentre entro venerdì bisognerà ricapitalizzare la società versando nelle casse 850 mila euro, pena un altro meno uno. L'11 luglio la Covizoc dirà sì o no alle iscrizioni e in caso di bocciatura la società potrà far ricorso entro il 14, dovendo dimostrare però a quel punto di aver sistemato tutte le pendenze. La cosa certa al momento è che i soldi per completare l'iscrizione non ci sono e quella bianco-rossa resta una disperata corsa contro il tempo per evitare la sparizione dal panorama professionistico. Insomma queste sembrano essere oggettivamente le due situazioni più drammatiche, meno pesanti, si fa per dire, quelle di Messina ed Acragas. Per i giallorossi del presidente Proto tutto sembra essersi risolto rispetto alla rateizzazione col fisco dei debiti e gli accordi trovati con i calciatori per gli stipendi che mancavano da inizio anno. Ma in virtù degli inadempimenti dell'ultima settimana e della recidività dopo i deferimenti e le condanne dei mesi scorsi, il Messina è passibile di quattro punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, come hanno ammesso anche fonti dirigenziali. Entro il 5 luglio sarà necessario presentare la fideiussione, c'è tempo fino a martedì 11 per sanare tutte le posizioni dei tesserati, effettuando i pagamenti concordati e versando i relativi contributi previdenziali. Se la documentazione presentata dovesse risultare carente dopo l'esame della Covizoc ci sarà tempo fino al 14 luglio per il ricorso. Per gli agrigentini invece l'iscrizione consente di avere un po' di tempo per cercare nuovi acquirenti, visto che gli attuali presidenti hanno dichiarato di volersi disimpegnare. Il Catanzaro invece è volta pagina e lo mette nero su bianco, aprendosi ad un futuro che non vedrà più protagonista la famiglia Cosentino, ma un nuovo soggetto costituito, come recita un comunicato ufficiale, dalla noto holding per il 60% e altri soggetti con quote minoritarie. Calabresi che potrebbero partire comunque con tre punti di penalizzazione, uno per la mancata corrisponzione degli stipendi fino a maggio ai tesserati, un secondo per il mancato pagamento degli stipendi a figure interne, un terzo relativo alla documentazione dell'incentivo all'esodo. Dunque davvero tante le situazioni difficili nel panorama professionistico, con rischio di dover ridisegnare presto la geografia dei campionati. Nessun problema invece per il Teramo, che ha effettuato la procedura di iscrizione e che sarà regolarmente a in asse di partenza. E di questi tempi non è davvero poco. La decisione finale sulle ammissioni al prossimo torneo di terza serie sarà poi ratificata dal Consiglio federale di giovedì 20. Insomma, l'ennesima estate calda per il calcio di serie C sembra essere solamente gli inizi.